Eccoci qui sempre Stefano Masciarelli per dirvi solo due parole in virtù del personaggio che interpreto in Una moglie da rubare. Il personaggio si chiama Giovanni, è un ex ricco imprenditore che ahimè cade in debacle e a sua volta gli viene rapita la moglie. Quindi lui per sopperire a questa grossa defaianza che vale un miliardo di lire che cosa fa? Rapisce la moglie di un un altro imprenditore e quindi nasce una sorta di storia in questo magazzino ci sono delle insomma accadono dei fatti e alla fine non vi dico più niente perché la commedia va vista comunque c'è da ridere si balla e si canta. Che volete di più della vita?